Creare thumbnail accattivanti per YouTube con DaVinci Resolve? Ecco come! Inizia intanto con il formato giusto, ovvero 1280 pixel per 720. Scegli uno sfondo accattivante, come in questo contesto, io ho scelto un frame congelato del mio video, e usalo come sfondo per la tua miniatura. Ritaglia il soggetto, usa lo strumento penna nella pagina Color per ritagliare il soggetto della tua immagine, aggiungi un output Alpha per rimuovere lo sfondo. Aggiungi testo e grafica, Utilizza gli strumenti di testo per inserire titoli o parole chiavi che descrivano il tuo video, oppure aggiungi immagini PNG, frecce o alte grafiche per rendere la miniatura più dinamica. Io lo faccio in Fusion che è un po' più sofisticato. Sperimenta con la Color, con gli effetti, con l'ombra, glow, blur, per risaltare il soggetto e la grafica della tua miniatura. E infine, esporta la tua miniatura nella pagina Color, vai sulla pagina Color, nelle Stills, clicca destro sull'immagine, crea uno still, clicca destro sul still che hai creato, esporta, come PNG e il gioco è fatto.